E gente, siamo in live! Come va? Come va? Come va la vita? Come al solito, fatemi sapere se mi si vede e mi si sente. Ormai lo sapete che sono anziano e paranoico, quindi temo sempre che non mi si veda, non mi si senta, c'è tutti questi problemini qua. Ma voi, che siete persone gentili, mi farete sapere se funziona tutto quanto. Allora, siamo in live e ora andiamo in live anche su Instagram. Come mai questa cosa del fare la doppia live? Perché mi piace complicarmi la vita. Andrà tutto bene? Sicuramente no. Ci sarà qualcosa che non funzionerà, io già lo so, ne sono ben conscio, ma va bene così. Va bene ugualmente così, anche se c'è qualcosa che andrà storto. Ma sì, ma sì, andiamo in live anche su Instagram. Vediamo un po'. E siamo in live anche su Instagram, quindi potete seguirvi o su YouTube o su Instagram. Non riuscirò mai a stare dietro a entrambi, quindi abbiate pazienza. Che bello, riesco a seguire una live in diretta. Ma guarda, in realtà passo un'ora a dire cavolate. Però è anche la cosa che faccio da sette anni a questa parte, quindi tutto sommato ci sta. Brindo a voi di YouTube, brindo a voi di Instagram. Ciao a tutti quanti, ciao a tutti quanti. Ci facciamo un'oretta di chiacchierata assieme. Appunto, do per scontato se non mi dite niente, che si vede bene, si sente bene e tutto quanto va per il verso giusto. O almeno lo spero. Oretta in cui ci faremo una bella chiacchieratina con una birretta. Io, se volete anche voi, bevete un po' quel che vi pare. Tanto ormai ciao su Instagram. Fivmg. Ciao ciao. Ciao Giuseppe Corti su YouTube. Sto già cominciando a far confusione tra i due social, eh? Però questo esperimento ve lo favo, almeno una volta volevo provarlo. Vediamo come riesco a gestire questa cosa. Ci facciamo quest'oretta di chiacchierata. Sono passato in fumetteria. Ho recuperato della roba molto 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 interessante. La cosa più cicciosa che volevo recuperare, ovviamente, dato che sono scemo, non l'ho potuta recuperare. Perché non ho potuta recuperarla? Molto semplicemente perché volevo prendere Blast di Larsenet, che è una vita che voglio comprarlo. Ho detto, da, con gli sconti, con i no compriamolo. Ovviamente in fumetteria non ce l'avevano e, ahimè, mi hanno detto che non facevano in tempo ordinarmelo. Quindi adesso vediamo se riesco a recuperarlo per altre vie, trovarlo da qualche altra parte. Perché Blast volevo leggere. Prima o poi volevo leggere Blast. Cioè, ci tengo. È un'opera che secondo me è super figa. Mi ispira un sacco. Voglio un sacco leggerla. Quindi voglio recuperare Blast. Ve ne devo sbrigare perché gli sconti Coconino stanno per terminare. White Noise Dragon dice su YouTube Ciao! L'ho eletto l'orrore di Dunwich di Gotanabe. No, 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 no. Purtroppo no. Però io voglio assolutamente... Ho fatto una live... Oh mio Dio, dove? Non mi ricordo più. Forse sul Twitch di Luca di Carta, credo. Intanto salutiamo Rambo Pavone. Grazie per il saluto, Rambo Pavone. Avevo fatto una live in cui c'era anche Polvere e Fumetti. Polvere e Fumetti ha letto molte, se non tutte le versioni manga dei racconti di Lovecraft. e ne aveva consigliati diversi. Voglio recuperarne qualcuno. Voglio recuperarne qualcuno. In quella live, tra l'altro, aveva anche consigliato da quali, secondo lui, meritano di più. E se non sbaglio ha fatto sempre Polvere e Fumetti un video anche su questo. Però mi ispira molto, però non ho ancora mai recuperato i racconti di Lovecraft fatti a fumetti da Gotanabe. In questa oretta, in cui ovviamente sto prendendo tempo per aspettare che la gente arrivi, sta magari uscendo dal lavoro, oppure se siete ancora al lavoro, raga ormai sono le 6, cioè quello che dovevate fare oggi l'avete fatto, non è che potete, cioè i vostri capi non possono più dirvi niente, ormai ciò che è stato fatto è stato fatto. E intanto Wild Noise Dragon dice Sì, te li consiglio vivamente, hanno dei disegni stupendi. Quelli li ho visti, i disegni li ho visti che sono veramente molto, molto, molto belli. Dovevo un po' scegliere da quale cominciare, fondamentalmente, questa è la cosa. Il delirio è che non so se guardare lo schermo, il cellulare, la telecamera del cellulare, la webcam, il soffitto. Guardo un po', guardo la birra, nel dubbio guardo la birra. Mi si chiede su Instagram, cosa mi consigli di Shintaro Kago? Se non hai mai letto nulla di Shintaro Kago, ti consiglio il volume Dementia 21. Un bel volume, non troppo estremo, ma un ottimo modo per approcciarsi alla sua folle poetica. Quindi ti consiglio quello, quello secondo me ne vale un sacco la pena, veramente un bel volume. A proposito di letture pazzerelle e particolari che ho fatto ultimamente, cominciamo un po' a parlare di fumetti. Magari letto il quarto numero di Night of the Living Cat. Allora, un po' a malincuore vi dico che magari sono io che ultimamente sono in mood un po' particolare, eh. Però non lo so, non mi ha entusiasmato troppo. Cioè, non so, già arrivato al quarto numero forse mi ha saturato, ma allora c'è tutta una parte in cui fa degli spiegoni giganteschi su cosa comprare per un gatto. Cioè, delle robe veramente un po' assurde che, ok, fa parte del gioco, ho capito, che era un po', cioè... Fa sto elencone, sto pippone su materiali per i gatti, un po' volutamente iperdescrittivo. E io quando vedo stimuri di testo muoio dentro, perdonatemi, è un mio limite. Però mi incuriosisce veramente, veramente tanto. Mi tolgo una cuffietta perché non sento la mia voce e mi infastidisce un po' non sentirmi. Però non vi nego che... Sì, fa sempre ridere, è sempre divertente, è sempre carino. Cioè, sto mondo in cui se tocchi un gatto diventi anche tu un gatto. È divertente, però non so, appunto magari non ero nel mood. Però questo quarto volume mi ha convinto un pochino meno dei precedenti. Mettiamola, mettiamo così. Quindi, resta una bella lettura, spero non duri troppo perché secondo me... È una storia che non si può tirare troppo per le lunghe, mettiamola così. I disegni sono anche fighi in realtà. E poi c'è questa tavola bellissima che vi mostro sia bene su Instagram che su YouTube. In cui ci sono veramente bellissimo, bellissimo questi con le tute da tirannosaure. Quindi ci sta, ci sta. Comunque, una bella lettura. Questo quarto numero mi ha convinto fino a un certo punto, però secondo me va letto. Fatemi sapere se qualcuno di voi sta leggendo Night of the Living Cat, come lo sta trovando, se vi sta piacendo. Sono curioso. E che per chi è appena arrivato, non sono pazzo, non sto guardando cosa accade, la live è in contemporanea sia su YouTube che su Instagram. Perché sono un gran professionista? No, perché sono uno a cui piace complicarsi drammaticamente la vita. Questa è la verità. Vi dico, tra l'altro, che se siete in quel di Torino e dintorni, tenetevi liberi per il 6 giugno, tardo pomeriggio. Come mai lo scoprirete più avanti? 6 giugno, segnatevi la data, avremo da fare, io e voi. E non solo. Vedrete, vedrete. Giuseppe Corti dice, quest'anno andrò al Salone del Libro? Assolutamente sì che andrò al Salone del Libro, ci vado ogni anno. Uno, perché, vabbè, sto di Torino e mi è anche comodo, gioco anche facile. Due, perché ormai ci sono un sacco di realtà fumettiche presenti al Salone del Libro, grandi e meno grandi anche. E in più, perché, come vi dissi nel vlog, forse, del 2023, il Salone del Libro, secondo me, è un'ottima occasione per poter chiacchierare con un po' di realtà fumetti, quindi in case editrici anche, magari, grosse, che in altre fiere dedicate solo al fumetto sono sempre bombardate gente, mentre lì, magari, essendo una fiera principalmente sui libri, quindi non incentrata solo sul fumetto, c'è la possibilità di fare quattro chiacchiere un pochino con più tranquillità, anche con autore, autrice, c'è un clima un pochino più rilassato, probabilmente. C'è tanta gente, il Salone del Libro è bello grosso, però, appunto, ci sta, ci sta. Ci porti a... chiedo per un amico? No, non penso proprio, non penso proprio che questa cosa succederà. Omunculus chiede su YouTube, a me non fece impazzire neanche il primo volume, nel senso molto carino, divertente, però non mi ha dato la spinta a continuarlo. Ci può stare, ovviamente, immagino, stia parlando di Night of the Living Cat, ci può stare, a me, i primi tre hanno abbastanza fatto innamorare. Il quarto, non so, forse ha cominciato un po' a stufarmi, oppure comincio a sentire un po' che già dal quarto non sanno più bene cosa narrare, però, appunto, questo post-apocalittico ironico mi diverte, cioè ci sta, ci sta, si può... continuo a leggermelo comunque, voglio portarlo... voglio ancora portarlo avanti. Mi scuso se per caso mi perdo qualche messaggio... Ah, grazie, lo recupererò, Demenzia21, stracossiato e fammi sapere poi cosa ne pensi. Se mi perdo qualche messaggio su Instagram, abbiate pazienza. Allora, mi si chiede su YouTube, questo weekend a Savigliano, 40 minuti di treno da Torino, c'è il Savix, piccola fiera, ci verrai, è gratuita. Non ne sapevo nulla, non ti niego che non ne sapevo nulla, questo fine settimana, ahimè, non posso, però se siete nelle zone di Savigliano fate un salto assolutamente e fatemi poi sapere com'è, ok? Sempre... queste fiere un po' più piccoline vanno assolutamente rivalutate, perché sono fiere in cui spesso si trovano cose che... particolari, cose particolari di cui vale assolutamente la pena scoprire. Continuiamo con un po' di letture prima di mostrarvi gli acquisti, unboxare roba e fare queste cose qua. Letto anche il secondo numero di Cold Lonely Death. Allora, io ho sempre molta paura per queste robe thriller made in Japan, mi fanno sempre un po' paura, perché, non lo so, tendono a sbaccare. Mi dicono che The Killer Inside, degli stessi autori, è stato molto molto bello, io non l'ho letto. Questo mi continua a piacere, molto intrigante. Ma alcune cose le ho trovate un pizzico... forse forzatine, soprattutto un colpo di scena che ho detto... Vabbè, ok, per ora mi raccollo, vediamo dove va a parare. Il timore del sovrannaturale dietro l'angolo, perché spero appunto che sia, come vi ho detto in altre sedi, più una roba incentrata sulla follia umana più che sul sovrannaturale. vi mostro magari anche qualche bella paginina, però secondo me vale la pena. Se vi piace il thriller, l'horror, queste cose qua, queste cose mistiche, questa storia in cui vengono trovati dei bambini uccisi nella casa di un uomo, e quest'uomo a quanto pare era solito raccogliere un po' gli orfani o persone, bambini maltrattati, e riunirli a tornare a sé in questa grande casa, ovviamente viene subito accusato lui di questi omicidi di bambini, però saltano fuori tre o quattro persone, non mi ricordo, che sono cresciute, hanno vissuto con lui, e dicono che non è possibile che lui abbia fatto queste cose, che non è lui il colpevole. C'è molto mistero, molto intrigo, ben strutturato, molto interessante, non so assolutamente al momento in quanti numeri consti questo fumetto, vediamo se riusciamo ad andarlo a vedere, scusate, tra microfono e birra e quant'altro sono pieni di cose davanti, sono un po' impedito, andiamo un po' a vedere se, mi sa che non è ancora concluso in patria, in patria sono sei volumi ed è in corso, ok, ok, se non ricordo male, Killer Insight erano 10, no, 11 o 12 volumi, una cosa del genere, correggetemi se per caso sbaglio, erano 11 o 12 volumi, se non ricordo male, Killer Insight, quindi c'è la speranza che comunque non sia troppo lungo, però, continuo a leggerlo, mi intriga particolarmente, Michel Desi, ma quanto tempo? Ma sì, ma un sacco di tempo che non ci si vede, un sacco di tempo che io non facevo live, e approfitto che c'è Michel Desi per dire che mi sono riletto il numero 1 del suo Rust, ho letto il numero 2 del suo Rust, che mi è piaciuto tantissimo, e devo leggere il numero 3 che conclude questa storia molto bella, ci feci un video sul numero 1, vi mostro anche qualche bella tavola, trovate sul canale una chiacchierata sul numero 1, quando finirò anche il numero 3, cosa che volevo fare in questi giorni, ma ahimè, la sfortuna non è stata la mia, non sono stato molto bene, quindi ho avuto una serie di casini, finirò il numero 3 e ne parleremo, storia molto 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 bella, mi è piaciuto un sacco, cioè, mi sta piacendo un sacco, poi Michele, magari svacca malissimo il terzo volume, fai un finale orribile, hai fatto un finale orribile, e io te lo criticherò tantissimo, sappi che non avrò pietà, per ora i primi due volumi, molto belli, mi è piaciuto un sacco, una storia veramente molto bella, e qua vicino mi sono tenuto anche il numero 53 di Samuel Stern, Samuel Stern con questa iper mega contin... tra l'altro non ho neanche sfogliato, questa continuity molto serrata di questo ciclo dell'Apocalisse, appunto, sta mettendo tanta carne al fuoco, tanta continuity, la prossima volta sapete cosa potrei fare, potrei mettere il cellulare più vicino alla webcam, così inquadro una volta sola, tutte e due, col senno di poi a pensarci prima, e io mi autoflagellerò, dice Michele, sì, ci sta, ci sta, siete autoflagelli, è giusto, è giusto, ma sono ottimista, sono ottimista che il finale sia bello. Dicevamo che c'è molta continuity ormai in Samuel Stern, quindi arrivato il numero 53, non mi ricordo assolutamente quanti numeri manchino alla fine di questo ciclo dell'Apocalisse, perché non ho memoria, lo sapete, va bene così, vogliatemi bere uguale, però ho deciso di mettere in pausa la lettura, ovvero, dato che mi stavo un po' perdendo, me lo metto in pausa e li accumulo, quando finirà il ciclo dell'Apocalisse, almeno gli ultimi numeri me li voglio leggere tutti assieme, perché c'è veramente tanta carne al fuoco, sta cambiando tanto il mondo di Samuel Stern in questo ciclo dell'Apocalisse, quindi se ne leggo un numero al mese mi perdo a bestia, a bestia sicuramente. Poi il problema è che adesso li accumulo, non so, tre o quattro quanti diavolo sono per finire il ciclo, e poi quando me li andrò a leggere la grande problematica sarà che non mi ricorderò cosa è successo negli altri, ma va bene, in qualche modo mi ci raccapezzerò. Quindi per ora ho fatto la stessa cosa con questo ciclo, è fatto bene Momo che mi dice su Instagram, anzi forse era bene non leggere proprio dall'inizio, cioè leggersela tutta assieme il ciclo dell'Apocalisse, perché veramente c'è tanta, proprio tanta, tanta, tanta roba. Quindi per ora metto in pausa solo la lettura, continuo a leggerlo, c'è il mio buon edicolante che me lo tiene da parte, belli disegni anche di questo volume, appunto, il cavallo rosso si chiama, non so di che cosa parli, non l'ho letto, appunto. Per ora lo si accumula, accumuliamo un po' di Samuel Stern e vediamo come prosegui. La mia speranza è sempre che questo ciclo sconvolga completamente tutto l'universo di Samuel Stern, non perché non mi piacesse prima, ma perché credo nella Vax che faccia questa roba del proprio... vi dirò di più. Forse l'avevo già detto in una live, ma sono anziano e ripeto le cose. Spero quasi che è arrivata la fine del ciclo del... di questo ciclo dell'apocalisse, Samuel Stern addirittura cambia nome, magari la figlia diventi... time skip nel futuro e la figlia è la nuova Samuel Stern, tra virgolette, cioè lei ha... diventa... la storia si incentra su di lei. Così, proprio. Samuel muore e la storia passa alla figlia e la testata anche cambia nome e non mi ricordo il nome della figlia in questo momento, però... Stern diventa, cambia il nome così. È troppo? Non lo so, a me piacerebbe così, ma... per mescolare le carte in tavola. Comunque bello, comunque... a piacermi, però appunto, viva la continuity comunque, a prescindere viva la continuity di Samuel Stern. A proposito di cose che ho letto, poi vi mostrerò anche, appunto, questi acquisti, fatemi sapere, tra l'altro, mentre io ciancio un po' guardando Instagram, un po' guardando YouTube, fatemi sapere, mentre ciancio, se avete recuperato qualcosa con gli sconti della... Coconino, se voi siete stati più furbi di me, perché dicevo all'inizio live che volevo recuperare oggi Blast, ma in fumetteria non c'era, ma hanno detto che non fanno in tempo a recuperarmelo per entrare negli sconti. Ora vedo, non amo comprare fumetti su Amazon, sinceramente, cerco di evitare, su Amazon è disponibile, a parte che ho paura in che condizioni mi arrivi, però volevo proprio prendere, col 20% di sconto, era un'occasione, quindi adesso valuto se... cercare di recuperarlo ancora in qualche fumetteria qui in Torino, gli faccio qualche giro, vedo se lo trovo ancora scontato al 20% prima che finiscano gli sconti della Coconino, o se anche questa volta, Blast me lo leggo un'altra volta, che vi devo dire? Rapporto Brodeck, forse me l'avevi già consigliato, vero? Forse me l'avevi già consigliato, mi dicono su YouTube, ho preso 21-20 e devo trovare il momento giusto per iniziarlo a giocarlo, e concentrati, concentrati molto bene per... ti dico questa cosa, concentrati molto bene perché non è assolutamente facile, tra l'altro ce l'ho qua, ne approfitto. Allora, è un volume che costicchia, cioè, ve lo dico proprio onestamente, sono... vado un po' a memoria, 34 euro, quindi, prendolo con lo sconto, ci conviene. Fumetto game, super inquietante, e anche abbastanza difficile. Buonasera, la soffitta di camera mia, buonasera, 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 appunto, perché appena è entrato, non sono pazzo, non sto guardando cose a caso, siamo in contemporanea, in live su Instagram e su YouTube, volevo fare questo piccolo esperimento per complicarmi eccessivamente la vita, però, si può fare, si può fare. Dicevamo, 21-20, molto complesso, super angosciante, ci feci un... mi ricorda le pagine gialle, inquietante più o meno come le pagine gialle, effettivamente, Momo, ci feci un video, vi consiglio di andare a recuperare, in cui davo semplicemente... c'è un pelucchio che mi dà fastidio, cioè, davo semplicemente dei consigli su come giocare a questo fumetto game, cioè, dei consigli, ma anche consigli, non proprio sul gioco, in sé su come passare la soluzione, però di calarvi proprio in questa ambientazione, quindi, musica, ambient dark, in sottofondo, tenetevi vicino carta, penna e cellulare per fare delle foto, perché alcune cose dovete fotografare, se no poi ve le dimenticate e siete fregati, perché se avete la pagina in cui poi vi serve il codice che avete visto x pagine prima, siete finiti, ve lo dico, quindi, concentrati, è complesso, ma veramente interessante, un mindfuck, e in più vi ci perderete, perché mi è capitata giusto una tavola, ad esempio, questa qua, in cui ci sono tutte queste porte, queste porte hanno tutte sopra, non so se si vede, ma hanno sopra dei codicini, e queste porte ve le dovete vedere tutte quante, e dite cavolo sono tante, beh dall'altra parte della stanza ce ne sono altre tante, e ancora, quindi impazzirete a un certo punto a girare tra le stanze, e ogni volta troverete cose assurde, inquietanti, disturbanti, bello, 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 con gli sconti coconino, secondo me questo, questa è una di quelle cose da recuperare, raga, io lo dico, è talmente particolare, che, secondo me ci sta, cioè, a me è piaciuto tantissimo, però, sapete che sono strano, ok, rimetto le robe a posto subito, perché sennò, ogni volta che faccio le live, dopo c'ho un casino, già c'ho un casino, c'ho luci, c'ho tutto quanto, dopo c'ho un casino per il salotto, che metta basta, e prima di mostrarvi poi gli acquisti fatti, anche poi delle robe che ho letto ultimamente, cose che mi sono arrivate, vi accenno giusto, semplicemente vi dico, ma quanto è figo di Department of Truth, mamma mia, in questo quarto volume, mentre nel terzo erano più storie, un po' di contorno possiamo dire, in questo quarto si ritorna gamba tesa con la continuity, mamma che bello, mamma che bello, e poi il fatto che i disegni siano così, graffianti, a volte confusi tra virgolette, ma così evocativi, è bellissimo raga, è bellissimo perché vi dà proprio quella sensazione di, non di fastidio, di estraneamento, cioè di cosa complessa, cioè bello, 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 veramente una grande storia, ben fatta, super intrigante, non ho la minima idea di quanto duri, se sta terminando in America, non vi dico che non so nulla, ma c'è guardate che tavole bellissime, c'è dentro tutto, politica, fantapolitica, c'è di tutto e di più, veramente una storia meravigliosa, cioè super figo, super intrigante, vi prende tantissimo, cioè incuriosisce un botto, bello sotto ogni punto di vista, e a proposito di cose belle, raga, mi sa che ve l'ho già detto, ma pensi di stare meglio, non vi dico nulla, tranne il retro di copertina con i pisellini, che mi piace molto, fa molto ridere, non vi dico nulla, ma penso, anzi penso, questo per ora è uno dei volumi migliori, che ho letto in questo 2024, cioè mi ha colpito tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi è proprio, anzi, ci ho scritto già un video, che devo girare, e l'ho addirittura riletto, perché volevo essere sicuro, leggerlo bene, fruirne con calma, bello, mi è proprio colpito, spiazzato, divertito, toccante in alcuni punti, bironico in altri, veramente un bel volume, Minimum Fax di Edo Massa, ne parleremo appunto meglio in un video apposta, ma bellissimo, la soffitta di Camera Mia, che passa un po' da Instagram, un po' da YouTube, ma va benissimo, ci mancherebbe, sai che non mi pare sia uscito un quinto volume in America, faccio un checking, e ti dico, grazie, grazie che fai un check, e fammi sapere se per caso è uscito un quinto volume di The Department of Truth, che sono super curioso, anche questo, vediamo quanto dura, vediamo, perché mi sa che comunque sta andando bene in patria, sta proseguendo bene, allora, mi tengo ancora un paio di cose che, guardo giù, non perché sono rintronato, ma perché ho i fumetti tutti per terra, perché non sapevo più dove metterli, mi conferma la soffitta di Camera Mia, che non è uscito un quinto volume, confermo, ok, grazie mille, quindi per ora non è uscito nessun quinto volume, attenderemo, anche perché la storia non si conclude sicuramente nel quarto, anzi, nel quarto evolve molto la storia, e vengono un po' svelate le carte, le parti in gioco, quindi si scoprono tante cose super interessanti, quindi sono molto curioso di andare avanti. Dicevo guardo per terra perché ho messo i fumetti per terra, perché ho saputo dove metterli, e direi che è giunto il momento, mio Dio quanto pesa, un boxino, un boxino più o meno, pesa otto quintali questa roba, mi è arrivato questo pacchettino, non so che cosa ci sia, ma qualche sospettino ce l'ho in realtà, qualche sospettino ce l'ho, lo scopo è aprirlo senza rovinarne il contenuto, perché mi darebbe giusto un pelino noia, però è molto 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 ben sigillato, molto ben imballato, intravedo qualcosa, quindi posso dirvi senza timore di sbagliare, che è un pacchettino che arriva dalla Coconino, con due opere che tra l'altro ho visto proprio oggi in fumetteria, me le sono spulciate un po', aspettate che prendiamo, la prima è, spero di pronunciarlo bene, perdonatemi se sbaglio la pronuncia, Schubeck Lubeck, ogni tuo desiderio, un bel volumone, bello, 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 bello corposo, di un'autrice, dovrebbe essere, se non ricordo male, araba forse, nata al Cairo nel 1995, una storia in cui delle specie di geni esaudiscono i desideri, Flexino di Dili, sì, sono proprio quel tipo di youtuber, instagramer, di persona, che flexo la roba che mi viene mandata, e ringrazio anche per la roba che mi viene mandata, un volume molto molto interessante, mi incuriosisce, appunto ho letto un po', un pochino la trama, sembra una storia molto intensa, di desideri che vengono realizzati da dei geni, che non stanno in, dentro delle lampade, ma dentro delle bottiglie, possono essere acquistati per realizzare i propri desideri, un po' in bianco e nero, un po' a colori, una storia della quale ho sentito parlare molto bene, apro totalmente a caso, totalmente a caso, qui, mostro cose un po' a caso, sembra veramente interessante, sembra una bella storia intensa, comunque, ho già chiacchierato con qualcuno che l'ha letto, e pare essere veramente una di quelle belle storie, belle pregne di contenuto, anche commoventi, qui c'è tanta roba, quindi sono molto curioso di leggermelo, ora ci metterò un pochino, perché ho tanta roba da leggere, ci sono anche delle immagini più fantasy, con questo drago, però non dovrebbe essere una storia fantasy, in realtà penso sia più una storia di, questi draghi siano più metaforici, però non mi lancio in cose che non so, sembra veramente bello, però me lo leggerò il prima possibile, ci metterò un pochino, ma sono super curioso, super curioso di leggere, quindi ringrazio tantissimo la Coconino per questo, e questo fu un altro fumetto, l'altro sembra super figo, questo qua l'ho sfogliato oggi in fumetteria, e stavo sbavando, e stavo dicendo speriamo che ci sia nel pacco, perché speravo fossero questi fumetti, raga, la strada di Arsenè, quindi non ho recuperato Blast, ahimè, a questo giro, cercherò di recuperarlo, però ho la strada, dal romanzo di Cormac, ispirato, tratto dal romanzo di Cormac, ha dei disegni, raga, che adesso non renderanno mai nella vita, e purtroppo, però andate a recuperarli, guardateveli, perché sono una, se scapitate in fumetteria, e vi capita questo volume davanti, raga sfogliatelo, mamma mia, c'è un volumone gigantesco, tra l'altro è enorme, non so se vi rende l'idea, ma è veramente imponente, questo lo devo recuperare anche io, diciamo, ma è questo essere molto figo, io non vi nego che la strada, il romanzo non l'ho mai letto, la strada, che fortuna mi dico su Instagram, e sì, sono molto curioso di leggerlo, non l'ho mai letto, so di cosa parla, la strada è un'opera abbastanza un caldo, un'opera molto celebre, Giuseppe Corti ci saluta su YouTube, ciao, è stato un piacere, tanto appunto, la live rimarrà disponibile, sia su YouTube, sto impazzendo, sia su YouTube, che su Instagram, speriamo poi, la prossima volta che faccio questa roba della doppia live, appunto, le metto vicine, così impazzisco meno, appunto, la storia dell'Ele è abbastanza nota, dietro c'è solo scritto, pensa bene a quello che metto, nella tua testa, perché ci resterà per sempre, appunto, la storia è abbastanza nota, e questo on the road, questo cammino in questo mondo devastato, e i disegni sono qualcosa di impressionante, raga, impressionante, appunto, ve li mostro, ma non renderanno bene, dalla fotocamera del cellulare, dalla webcam, non renderanno così bene, quanto sono belli dal vivo, se vi capita, veramente, in fumetteria, cercatelo e sfogliatelo, poi valutate se prenderlo o meno, ok, però, guardatele e dite, mamma mia, ecco, questo, penso che, scalerà un po' la mia pila, e sarà una delle cose che mi leggerò per primo, per quanto, vabbè, la storia, appunto, non l'ho mai detto la strada, però, forse, ho visto il film, non vorrei fare confusione, però, un pochino la so, però voglio fruirne subito, questo, invece, secondo me, questa è una roba che invece mi piacerebbe, non fare sparsare cent'anni, prima di leggerlo, però godermelo col giusto ritmo, col giusto tempo, perché dentro c'è, sembra veramente, pregno di, di tanta roba, vedo anche degli schemi, chissà che cosa sono, ahimè, non posso dirvi molto di più, l'ho appena aperto, quindi, vedo degli schemi, chissà, che cosa saranno, che cosa saranno, lo scoprirò, leggendolo, e ne parliamo, su qualche social, anche perché ultimamente mi sto lanciando anche a fare i rille, non so se avete visto, che professionalità, addirittura i rille, mamma mia, mamma mia quanto sono giovane, raga, grazie ancora alla Coconino, vi ringrazio tantissimo per avermi inviato questi due volumi, sono stra 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 curioso di leggerli entrambi, ma oggi, intanto io continuo a citarvi, ah, fatemi sapere anche se avete recuperato qualcosa della Nicola Pesce Editore, che anche la Nicola del Pesce Editore è in sconto al 20%, nel mese di sconti, quindi fatemi sapere se avete recuperato anche qualcosa di questa realtà editoriale, e qualcosa della Coconino, della Coconino volevo anche recuperare il mio amico morto, i titoli ogni tanto, la mia amore è facilecca, il mio amico morto forse dovrebbe chiamarsi, e mi ispirava, mi ispirava molto, ad essere un bel volume, quello magari riesco ancora a recuperarlo con, con gli sconti, riesco ancora a recuperarlo con gli sconti, andiamo, orora, avanti, con qualcosa che ho letto ultimamente, e poi vi mostro quello che ho recuperato oggi in fumetteria, poi, faccio la consueta foto che metto su Instagram, che come ogni volta vi dico serve più a me che a voi, così a fine mese mi ricordo cosa mettere le videoacquisti, se no faccio un casino, ho letto, ho recuperato, ve l'ho mostrato nel videoacquisti, ho recuperato, e letto lo schermo bianco, tutti quanti ne parlavano bene, io ero stracurioso, ho detto, vabbè raga, a questo punto, è questo schermo bianco, leggiamolo, cioè, che devo dire, a questo punto, proviamo questo schermo bianco, ho aspettato gli sconti, bellissimi i disegni, tratto super graffiante, spero si veda e renda, faccio il possibile, super 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 graffiante, molto bello a livello grafico, appunto, ci sono delle tavole veramente fighe, cercavo qualcuno in particolare, però, soprattutto magari ambientazione di pioggia, quindi queste tavole graffiate, veramente figo, storia ambientata in una Francia, che sembra abbastanza il nostro presente, ma in mano a un partito di, estrema destra, molto oppressivo, delle persone si ribellano, utilizzano appunto lo schermo del cellulare, per filmare tutto quanto, e mappare fondamentalmente gli eventi, in modo che la polizia non possa aggredire, quindi c'è tutta critica sociale, così, bello perché comincia come uno slice of life, e continua come una specie di thriller, ci sono dei misteri, ci sarà un attacco terroristico, un attentato, possiamo dire, non si capisce bene però, chi abbia compiuto questo attentato, che cosa sia realmente successo, che cosa c'è dietro questa organizzazione degli schermi bianchi, c'è la storia del protagonista, di tutte le sue difficoltà, c'è tanta roba, unica critica, forse è qualcosa che non mi è piaciuta tantissimo, fatemi sapere tra l'altro, per chi è in live in questo momento, o se state guardando queste, queste video indifferita, nei commenti, se per caso l'avete letto, come l'avete trovato, molto bello, forse la spiegazione finale, un pochino contorta, cioè alcune cose un po', cioè quando alla fine viene svelato il piano finale, chi c'è dietro, qual era l'intento, tutto quanto, un pizzico macchinoso, cioè mi sembra un piano che era un attimo, che non funzionasse, cioè bastava che qualcosa non andasse come era pensato e sbaccava tutto, quindi un pochino, quello mi ha forse convinto un pochino meno, però si fa leggere super bene, comunque molto intenso, mi è piaciuto tanto, a me questo tratto è piaciuto veramente un sacco, cioè questi volti così ben caratterizzati, così graffianti, questi sguardi, se riesco a farvi vedere bene uno sguardo sguardoso, ecco veramente bello, una bella lettura, me lo so letto proprio con piacere, appunto, tra l'altro un'opera prima, ho tanta stima, cioè per essere un'opera prima, tutto il mio rispetto, cioè, attenderò, di Enrico Pinto, attenderò assolutamente qualcos'altro di questa toria, perché appunto, se questa è un'opera prima, appunto, magari c'è qualche piccola cosa di, che pecca un po', non dico di ingenuità, in realtà non è così tanto, però magari appunto alcune cose, soprattutto il finale un po', un pochino, non dico forzato, ma un pizzico macchinoso, però comunque è una lettura che scorre bene, si legge con piacere, veramente, bello, 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 un sacco di roba di coconino, ultimamente sembra che sono, sono fissato, ma ci si vuole bene con quelli di coconino, quindi, questo, questo però l'ho comprato, questo l'ho comprato con gli sconti, non me l'hanno mandato, me lo son comprato, me lo son comprato, mentre mi è arrivata un'altra roba, dai ragazzi della, P, leggo sempre, perché ho sempre paura di sbagliare, DPS Comics, mi è arrivata questo l'uno, tra l'altro i ragazzi della DPS Comics, questo fine settimana, se non sbaglio erano al Varky Comics, Varky in cui, nell'organizzazione c'è anche il buon Big, che scriveva qui sull'Instagram dell'altro fumetto, con cui ogni tanto ci sentiamo ancora, Big è vivo, e continuo ad amare il fumetto con tutti noi, mi hanno inviato, Human Sheeps, molto interessante, molto carino, solo ora mi accorgo di, non aver specchiato le immagini su Instagram, quindi state vedendo tutto al contrario, perché sono scemo, abbiate pazienza, perdonatemi, perdonatemi, molto 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 bello, sono storie horror ambientate in varie epoche, quindi c'è storie horror ambientate nel West, storie horror ambientate ai tempi d'oggi, personalmente apprezzo tanto le storie horror brevi, perché se ben fatte non è così facile riuscire a colpire in così poco tempo, in poche pagine, arrivare al punto della cosa e riuscire anche a stupire, quindi veramente è una cosa molto 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 bella, mi è piaciuta tanto, questa cosa funziona secondo me molto bene, ricordiamo per chi è appena entrato, che sono in live contemporaneamente su Instagram e su YouTube, così ogni tanto lo ricordo, anche a me stesso, così so cosa guardare, bello, molto bello, in più, non me l'aspettavo, andando avanti, qualche storia comincia ad avere qualche collegamento che torna, non dico di più, non dico altro, veramente interessante, ho apprezzato soprattutto alcune storie iniziali molto brevi, molto molto belle, molto inquietanti, si va dal, sovrannaturale, ma neanche più di tanto, adesso me lo sto risfogliando per ricordarmelo un po', non si basa tanto su un horror sovrannaturale, più sulla follia umana, che appunto è il tipo di horror che più mi piace, sinceramente, il tipo di horror che mi appassiona di più, quello basato su serial killer, omicidi, queste cose qua, forse quando alcune storie, cerco di essere vago per non fare spoiler, che qualora lo volesse recuperare, secondo me ne vale la pena, quando alcune storie cominciano un pochino a tirare le fila, ciao Simone Bocci, ciao ciao ciao, come va, come va Simone, come stai? intanto saluto anche buon salve a ralph, scaccola tutto, hai un bellissimo nick, ti dico, bellissimo nick, buon salvo anche a te, dicevamo, quando le storie cominciano un po', a prendere una forma, mettiamola così, forse alcune cose sono, ho trovato un pochino macchinose, ogni tanto mi sono un po' perso, però, bell'esperimento, bell'horror, appunto, alcune storie mi hanno colpito, mi sono rimaste, mi hanno ingruosito, bello, grazie per avermi inviato, ben felice di averlo letto, e, veramente, soprattutto le prime, ma appunto, sono molto appassionato di storie horror brevi, mi prendono proprio bene, e poi soprattutto apprezzo tanto che non ci sia molto sovrannaturale, sto andando, sto resfogliando per controllare, ma di base forse non c'è proprio sovrannaturale, è tutto molto basato sulla, su, l'interazione e la follia umana, che è la cosa che preferisco di più, bel 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 volume, vi ripeto, DPS Comics, passate dal loro profilo, andate a vedere un po' la loro roba, se li beccate a qualche fiera, spulciatele, questo volume, datevi un'occhiata, perché anche a livello grafico, comunque, raga, tanta tanta roba, ne approfitto di Campolo e Ceglia, Campolo e Ceglia, i miei complimenti, vi dirò, i miei complimenti, appunto, forse diventa un pochino, alcune cose un pizzico tirate quando le storie cominciano a collegarsi, però, gran bel lavoro, gran bel lavoro, molto piaciuto. Ah, quanto parlo, raga, quanto parlo, grazie, ma grazie a voi, grazie a voi che siete su Instagram, grazie a voi, veramente un, ne approfitto che siete, presenti su Instagram, per complimentarmi con voi, del DPS, leggo sempre, perché ho porre di sbagliare l'acronimo, DPS Comics, complimenti, bel lavoro, attenderò altra roba, attenderò altra roba, perché l'horror, lo sapete fare, devo darvene atto, lo sapete fare anche bene. bevo la mia birretta, e vado avanti in questa double chiacchierata, sia su Instagram, che su YouTube, in questo retto, retto abbondante, che ci passiamo assieme, dovremmo fare più spesso queste cose, anzi, dovremmo anche fare delle live la sera, magari, così, non solo queste live in un orario aperitivo, dato che, sono più o meno, più o meno un anno, che ho in mente una rubrica da fare in live, e continuo a procrastinarla con altre persone, con degli ospiti, tutto quanto, e continuo a procrastinarla, perché la mia vita è un po' complessa ultimamente. Mi scrivono su Instagram, quelli della DPS Comics, ci fa piacere che tu abbia apprezzato, grazie di nuovo, grazie a voi, perché mi è piaciuto veramente, veramente tanto, appunto, era un volume che mi ero, avevo segnalato, non mi ricordo dovevo andare a qualche fiera, in qualche sede, non mi ricordo dovevo vederlo, e mi ispirava, mi intrigava molto, mi ero ripromesso di recuperarla, voi siete stati gentilissimi, me l'avete mandato, e bello, bello, avremmo modo di, chiacchierarne anche in, in altre sedi comunque. Ok, prendo fiato, parlo magari un pochino più lentamente, torno a bere la birretta che sta finendo, per ora sto riuscendo a non ruttare, che è già una cosa buona, nella vita. Comincio a avere un po' caldo però, a parte lo spogliarello di Dili. Ah, come va la vita? Gente, come va la vita? Intanto su Instagram mi dicono, era il periodo di Lucca almeno, ti sei risparmiato un po' d'acqua, ecco, ecco cos'era, che, ok, grazie mille per il ricordo, usciva a Lucca dell'anno scorso, a cui non sono andato, e avevo, probabilmente, segnato le cose che mi, mi intrigavano di più, però non, non puntavo ad andare a Lucca, quindi, non ci sono stato a Lucca l'anno scorso, e molto probabilmente, non ci sarò neanche quest'anno, perché? Perché non c'ho voglia di andare a Lucca, ci sono fiere che mi emoziono di più, tipo il Treviso Comics, non ho voglia di andare a Lucca, poi quando vedo i giorni di Lucca Comics, rosico tantissimo, perché siete tutti là, e quindi mi dispiace non esserci, esco un sacco di robe a Lucca, mi dispiace non recuperarle, e tutto quanto, però, non ho proprio più, sono vecchio, non ho più voglia di stare in quel carnaio di Lucca Comics, mi dispiace, però, vabbè, se salto anche quest'anno, il prossimo anno però vado, cioè, nel senso, facciamo, mi do tipo, uno sì e due no, adesso vediamo, però, nel prossimo anno vado, quest'anno non mi sono organizzato, non ho preso i biglietti, non ho trovato la casa, non ho fatto niente, quindi penso che non andrò, magari all'ultimo, faccio la pazzia, e compaio a Lucca, però, molto probabilmente, sarò al Treviso Comics, sarò al Salone del Libro, sarò, cavolo, mi ero segnato altre fiere, ma in questo momento non mi vengono in mente, vabbè, in questo momento non mi vengono in mente, queste due, quasi sicuramente, vorrei andare al, anzi, probabilmente andrò, fare un salto in giornata, al Comic-Con di Bergamo, che quest'anno è la seconda edizione, dall'altro non mi è piaciuto, era un'edizione zero, possiamo dire, un esperimento, secondo me ha funzionato, vediamo come andrà, mi dispiace molto non essere al Comic-Con di Napoli, perché, ci sono stato, no, mano al collo, ci sono stato, un paio di anni fa, se non ricordo male, fiera bellissima, location meravigliosa, bello, 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 parlavo con le persone, al Bombetta Fest, chiede giustamente su YouTube, Vanessa, al Bombetta Fest, penso di sì, quest'anno magari ce la faccio, sono sempre venuto il primo anno al Bombetta Fest, poi non sono più venuto al Bombetta Fest, ma magari capiterà che ci vedremo in altre sedi, Vanessa dei Meceneti Poveri, non dico altro, vedremo, vedremo, allora, passo un po' alla roba che ho recuperato oggi in fumetteria, ringrazio comunque per essere qui con me quest'oggi, chi su Instagram, chi su YouTube, e vado un po' avanti, allora, scompaio un po' perché ho tutto qua sotto, mi sono recuperato, primo numero di una nuova collana, collana che probabilmente seguirò tutta, iniziativa editoriale che mi piace molto, bell'idea secondo me, giusto così, do il mio centesimo che non interessa a nessuno, io l'avrei chiamata, invece che, come si chiama questa collana, che posso anche dirvelo, non è che questo, devo creare questa hype, si chiama Gatti Sciolti, l'avrei chiamata Pasticcini, perché il senso della collana è dare la possibilità di conoscere autore, autrice del panorama, non dico emergenti in realtà, però magari non così noti, e dare la possibilità con pochi soldi di leggere qualcosa di loro, ottima iniziativa, molto bella, quindi con 5 eurini voi vi portate a casa un bel volumetto, in questo caso è Ripane, quindi Ripane si deve recuperare per il bene che gli voglio, Ripane che, ricordiamo, ha disegnato il logo dell'altro fumetto, quindi il mio bel faccino, è disegnato da Alessandro Ripane, già autore di Ramona Isgarrato, e autore di Hai rubato anche tu questo disegno, due volumi per la edizione IBD, volumetto che con 5 euro, come vi mostro la grandezza di questo volume? e vabbè, mi prendo un manga a caso, per farvi vedere, è proprio un volumetto piccolino, tascabile, cosa che sinceramente apprezzo, perché io a questo punto sono o per la strada, quindi gigantesco, bellissimo, capolavoro, vedi disegni enormi, fantastico, oppure una roba piccola, perché io non ho più spazio in casa, adesso dovrò, per chi è su Instagram, sta vedendo, per chi è YouTube, perdonatemi, lassù mettere altre librerie, perché non posso più espandermi con le librerie in orizzontale, perché ho finito lo spazio e devo espandermi in verticale, verso l'alto, perché non so più dove mettere i fumetti, e tra l'altro presto venderò anche della roba, ma che bello questo formato, dice Vanessa, sì, molto carino, molto tascabile, molto bellino, Alessandro Ripane, è veramente, oltre una persona fantastica, raga, cioè, non potrò mai dirvi troppo, ma, all'ultimo, Cartoon Mix, c'è stato un momento in cui io, Dan, di Fumetti Senza Paura e Ripane, abbiamo fatto una lunga chiacchierata su cose particolari che succedono a Lucca, tra persone di vari casi di trici, ma, una cosa che non posso raccontare, ma, comunque, è un versaggio super simpatico, Ripane, veramente, è sempre un piacere fare qualche chiacchiera con lui, è veramente una bella persona, e secondo me è anche un gran fumettista, perché ha questo stile minimale, ma sempre molto efficace, appunto, è piccolino il volume, quindi devo farvelo vedere così, e sono super curioso, secondo me questa è un'ottima iniziativa, tra l'altro, è già stato annunciato il prossimo volumetto di questa collana, collana che è appunto di fare sinceramente tutta quanta, ed è Persi, vado a memoria perché vorrei fare gaff, Persi, è stato annunciato anche il nome, ma, in questo momento non me lo, al ricordo il nome, porca miseria, del volume, comunque, passate sui social di ieri sedizioni, che appunto, piano piano annunciano tutte quante le uscite, raga, 6 euro, passiamo al 5, no, 6 euro, volumetto, piccolino, prendete, portate a casa, conoscete persone nuove, poi se vi interessa, andate a recuperare appunto, volumi più corposi, magari che vi sono, vi hanno, possono farvi dare, dare meglio il senso della, della loro, della loro poetica, grazie Vanessa, che sei sempre sul pezzo, di me è scuola di bacio, esattamente, scuola di bacio, sarà il prossimo volume, di questa collana, collana che appunto, io mi sa che mi farò tutto, anche perché, se tipo, il ripane lo conosco, quindi non è che mi serve per conoscerlo, ma conoscendolo che mi piace, voglio leggere qualcosa di, di suo, anche se breve, altri che non conosco, ottimo, avrò modo di conoscere, la collana nasce per quello, per questo, pasticcini, pasticcini era un bel nome, così, potevo dirlo prima, l'aeris, ormai sono usciti, quindi i gatti sciolti, però pasticcini mi piaceva molto, e alla fine, tra l'altro, di ogni volume, se non ho capito male, ci sarà il, un gatto sciolto, disegnato dall'autora, la autrice di turno, tra l'altro, ripane con le cose che si sciolgono, è un fenomeno, basta vedere il suo, ultimo, hai rubato anche tu questo disegno, lui adora disegnare cose che si sciolgono, Brescia dice che quello lo recupera sicuramente, magari anche questo di ripane, ma sì, ragazzi, sono 6 euro, spegniamo soldi in cose peggiori, Ciro Giuliano dice ciao Rosso, ma ciao a te Ciro, ciao, ci sta, 6 euro ci sta, poi piccolino, guardate che, dove lo mette, bellino, lo potete anche appoggiare qua così, guardate che bello, come si avvicinò a pack di Berserk, bellino, bellino, ci sta, Instagram non si vede, qua lo avevo appoggiato qua, scusate, comunque, me lo leggerò, questo me lo leggerò subito, appunto è abbastanza breve, me lo leggerò subito, poi, proseguiamo con le cose recuperate, che birra è? Una Bex, mi sembra, una Bex, io, apriamo il momento birra, posso concedermi 5 secondi di cose di cui forse non mi interessa così tanto, io apprezzo tanto le birre ignoranti, con tutto il rispetto parlando, c'è non mi piacciono le birre belghe, quando sono andato in Belgio ho bevuto un sacco di birre belghe e lo trovo stucchevole, mi piacciono le birre leggere, tipo la Heineken Silver, la Moretti, quella filtrata fredda, cioè quelle birre poco gasate, e vi dirò di più, io sono anche una pessima persona che quando verso la birra la faccio anche un po' sgasare, perché mi piace un po' sgasatina, così che scende giù che è un piacere e te ne bevi 3 o 4 e poi non sai più come ti chiami, così. Invecchiando basta birre ricercate, artigianali, che per carità, Massimo Lispezzo, sono delle birre artigianali super buone ovviamente, però tendenzialmente, capito, poi quando fa caldo, orario aperitivo, birretta ignorante, una bella birretta, biond, ignorante, fantastico. Vi consiglio tra l'altro, così, chi se ne frega, la Kozel, la Kozel se non l'avete mai provata, sia bionda che rossa. Anche la rossa in realtà è molto leggera, è super beverina, una birra da Praga dovrebbe arrivare, è molto buona. Se vi capita la Kozel, ascoltate me, anche se non mi piace la rossa, che tra l'altro la rossa io non riesco a trovarla, l'oro rossa, l'avevo bevuta un paio di volte, è fantastica perché è super leggera, però ha un gusto appunto da rossa più particolare. Michele Di Sti mi dice, niente iknusa, sì, l'iknusa anche, soprattutto quella filtrata a freddo, sempre tanta roba, sempre un must have, Ciro mi dice, deve fare la schiuma, se ne fa, aspetta, leggo con calma, deve fare la schiuma, se no fa l'aria nello stomaco, giusto, giusto. Questa cosa qua, sapete chi mi ha insegnata? Momo, quando sono andato a Genova, sono andato a Genova, eravamo io, Momo, la moglie di Momo, e la mia compagna, e mi ha insegnato questa roba, io ero sempre ignorante, bevevo così, infatti mi gonfiava di bestia, mentre se quando la fai, usce, sì, quando la spilli, fai il fuo di schiuma, ne puoi bere di più, perché ti gonfia meno, cioè non ti satura lo stomaco, e io appunto, faccio bella un po' sgasarina, perché sono proprio un maledetto, e mi piace tantissimo così. Finito il momento birra, mi interessava? beh, abbiamo fatto questo momento birra, andiamo avanti con i fumetti, Momo, ne fa tanta di aria, non lo so, non, 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 conosco abbastanza Momo, non so quanta aria faccia, e spero di non scoprirlo mai, caro Ciro Giuliano, che mi scrive questa cosa su Instagram, però vedete, mi sono venuto che è una 33, ma non ho fatto ruttini, perché? Sgasato, raga, i trucchi, i trucchi, allora, a proposito di manga di un certo livello, tolto il fatto che, mi sono appena accorto di una cosa che, scherzo, dice Ciro Giuliano, certo, mi sono appena accorto di una cosa che un po' mi triggera, ma mi passerà in mezzo secondo, è uscito l'ultimo volume di, Giganz, 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 come cacchio si pronuncia? Una bella cavolatona, una bella cavolatona, ciao Romeo, una bella cavolatona, ultimo volume, il mio trigger è molto semplicemente, è per il fatto che, in tutti i volumi, l'immagine qua, della costa, è in bianco, sfondo bianco, questo è in rosso, giusto per farli diversi, così, e in più hanno fatto, le scritte dorate, raga, ma è una miniserie di 5 volumi, che tra l'altro non si è cagato nessuno, cioè, deve uscire Leviathan, tre numeri, sembra interessante, adesso lo unboxiamo, Allora, già, non ce la posso fare a pronunciare, ma sarò scemo, Gigantis, fine, Gigantis, chiamiamo di Gigantis, bom, serie, super ignorante, super scema, che va benissimo così, raga, che va benissimo così, c'è, ma la trama è, virus, animali, che si fondono, tra di loro, e si fondono anche con le persone, creando dei mostroni, una persona ha un potere, diventa un gigante, per combatterli, fine, boh, cioè, non saprei cos'altro dirvi, unico dubbio, è che, e finisce con il quinto volume, ho detto tutta la roba della birra, adesso rutto, finisce con il quinto volume, e spero che il finale non sia drammaticamente troncato, cosa che un pochino temo, però appunto, spero gli diano una degna conclusione, e soprattutto, mannaggia al cavolo, spero non sia la classica, dico giapponesata, anche se potrebbe essere un po' razzista, ovvero, spesso capita che, quando un manga in Giappone non va proprio benissimo, lo chiudano, ci sta, ok, sono le regole del mercato, il problema è che tendenzialmente, chi lo scrive, si lascia sempre la possibilità, che poi magari, vada avanti, quindi lascia sempre una porta aperta, a volte non è una porta, è proprio, una palazzina aperta, cioè nel senso, praticamente il finale è talmente aperto, veramente, arturo andrea, ciao, ciao su instagram, quindi lasciano dei finali iper aperti, che sono palesemente, per eventualmente continuare la storia, e se te l'hanno chiuso, te l'hanno chiuso, quindi è difficile che poi lo riprendano, cioè, o l'hanno chiuso perché, che ne so, problemi editoriali, ma se non vende, e questo secondo me non l'ha venduto neanche in Italia, perché Ministero dei Cinque Volumi, ci ha messo, sei anni a uscire, ci ha messo un bordello, però, i disegni sono super fighi, i mostri sono super bellini, a me sono piaciuti tanto, io, me lo sto leggendo con piacere, è una cafonata, sì, è una cavolata, sì, spero si concluda bene, e vi dirò, se si conclude dignitosamente, non con una roba tagliata di netto, oppure super aperto, cavolate del genere, per me, miniserie iper approvata, se volete una roba ignorante, cioè, guardate i mostri che semenano, cioè, ci sono mostri giganti che semenano, cioè, è bello, cioè, è una roba così, un manga d'accesso, un bel manga d'accesso, io mi sento di consigliare, aspetta, prima leggo l'ultimo volume, poi, mi sento, poi magari ve lo consiglio, e ne parliamo, in un top and flop, tipo, top and flop che non faccio da un po', tra l'altro, guardate, questo mostro gigante, che si mangia una fanciulla, uh, che paura di spavento, che, comunque, a me sta piacendo molto, è molto divertente, è una cavolata, ma, ci sta, viva le cavolate, ma sì, personalmente sono, sempre molto, per gli eccessi, cioè, o, leggo, fumetto della vita, che potrebbe essere la strada, potrebbe, cioè, fumetto proprio che è, toccante, come un altro che tra l'altro ho preso, ora vi mostro, toccante così, oppure, voglio una cazzatona, voglio una cazzatona, e io sono contento così, una bella cazzatona, ben fatta, super dignitosa, la soffitta di camera mia, su YouTube, perfetto, quindi, quando ci vediamo, tocca andare a prendere una birra, e certo che tocca andare a prendere una birra, capo, io in teoria sarei a dieta, ma la birretta ogni tanto per la live, già faccio una live ogni sei mesi, porca miseria, alla vostra, dovremmo fare più live, comunque, dovremmo fare più live, perché mi piace molto chiacchierare con voi, anzi, approfittiamoli, io ho ancora qualcosa da mostrarvi, ho un... tre fumetti da mostrarvi, che ho recuperato, uno è l'unboxing del Leviathan, l'ho spoilerato prima, quindi scrivetemi robe, che chiacchieriamo un po', facciamo ancora questo dieci minuti, un quarto d'ora assieme, e poi ognuno a preparar cena, che cosa preparate questa sera di buono? Io non lo so, devo inventarmi cosa cucinare per questa sera, ciao superdili, scrive Roberto Moriena su YouTube, ma sì, viva le cavolate, che a volte ci fanno star bene, ma certo, ma certo, ma certo, facciamolo allora, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, mi crede sì, facciamolo allora cosa? Scrivere cavolate, facciamo un bel fumetto di cazzatone tutte insieme, ma è giusto, ma ci sta, nel senso, il fumetto è una forma d'arte e anche di intrattenimento, ci sta anche una bella cavolatona, cioè, ma sì, ma se fatta con conscia che sia una cavolatona, e quindi per intrattenere una cosa divertente, che sia anche fuori di testa, assurda, ma ben vè, ma di più, di più, Michele Sint intendeva live più frequenti, c'hai ragione, più live, più live e più beer, la prossima volta con... un Alginthonic non mi piace, un Long Island, un Long Island, mi sbronzo in live e comincio a parlare male di tutti quanti, ne avrei da dire a voglia. Allora, il buon Ralph Scaccolatutto, che è ovviamente un gioco di parole, se non l'avete colto, molto sottile, con Ralph Spaccatutto, e Ralph Dei Sims, capolavoro, genio, una lettura cazzatona, e Tamarra fa sempre bene, oh, comunque noto che, noto che, seguite proprio tutti l'altro fumetto, eh, cioè, parliamo di cazzatone, e tutti quanti che salgono sul carro dei cazzari, e fate bene, leggo anche un po' su Instagram, scusa di quale manga stai parlando, sono arrivato in ritardo, di questo qua, di questo qua, gigante, la bella cazzatona, che si conclude col numero 5, che hanno deciso di fare col sfondo rosso, i numeri dorati, vabbè, vabbè, comunque, comunque, vediamo come si conclude, salvo che non si concluda con un punto finale aperto così, però se si conclude con una roba dignitosa, chapeau, va benissimo, ciruliano, bevi le birre sono solo durante le live, eh sì, col cavo che bevo le birre solo durante le live, tra l'altro, così, non so cosa ve ne frega, ma io ve lo dico, così, tra l'altro, a breve farò una cosa particolare nella mia vita, ovvero, purtroppo, non mi sono potuto presentare in questa live con la fascia da sindaco, non perché divento sindaco di Torino, ovviamente, ma perché celebrerò un matrimonio, quindi, in un comune qui vicino a Torino, e purtroppo la fascia me la danno solo il giorno stesso, perché mi servevo fare già il live adesso con la fascia da sindaco, celebrerò un matrimonio, quindi, è una cosa che mi emoziona molto, mi agita anche tanto, non vi nego, però mi emoziona molto, celebrerò un matrimonio, un'esperienza nella vita, quindi mi sono organizzato con i futuri sposi, appunto, un po' la cerimonia, cosa fare, sarà una roba, ovviamente, si hanno scelto me, e, me l'hanno palesemente detto che l'hanno fatto perché, non volevano una roba troppo istituzionale, seria, e, quindi sarà abbastanza un'allegra cazzatona, ma, comunque, celebremo il loro amore, l'unione del loro amore. Comunque, tornando ai vostri commenti, fumetti in valigia, ciao, intanto, che mi scrive su YouTube, ciao di lì, a proposito di fuori di testa, ho letto Demon, troppo, troppo, troppo bello, mi sono innamorato, raga, 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 dove, dove cavolo è, Demon, io vi giuro che ho quintali di robe da leggere, perché, sì, nel senso, come tutti, abbiamo piglie della vergogna infinite, ma prima o poi, Demon me lo devo rileggere, perché, è bellissimo, è bellissimo, tra l'altro, ho un vuoto di, era uscito sicuramente il pack, con tutti e quattro i volumi assieme, non mi ricordo se era uscito anche una versione tutta unita, ma forse non c'era solo il pack, comunque, Demon, 15 euro l'uno, quindi, per carità, è vero che i quattro volumi vengono a 60 euro, ma, con il scontro del 20%, è una roba fuori di testa, in cui, all'epoca ne ho parlato tantissimo, comincia con, poi andiamo avanti con i fumetti, con una persona che scrive il suo testamento, la sua lettera da Dio, e si uccide, questo è Demon, pagina dopo, si vede questa specie di cerchio così, e lui, si sveglia ed è di nuovo in vita, allora decide di provare a ammazzarsi di nuovo, scrive di nuovo, questa volta si ammazza in maniera differente, si mette nella vasca, si taglia le vene, e si risveglia di nuovo, che cosa sta succedendo? Lo scoprirete solo leggendo questo volume, fuori di testa, bellissimo, e soprattutto, porca miseria, ladra, finalmente, dammi i fumetti in varigia, dimmi se concordi con me, finalmente, o se qualcun altro l'avesse letto, che è in diretta ora, o me lo scrive nei commenti, finalmente, un protagonista che fa cose intelligenti, non suicidarsi, cioè, ma ha delle reazioni intelligenti, cioè, fa delle cose che sono, cioè, che io per primo al suo posto farei, se molto semplicemente, porca di quella la miseria, scrive intanto Vanessa, uh, l'avevo letto anch'io, davvero bello, ma già parli di demon, lui non sa cosa stia succedendo, quindi a un certo punto, tanto non è uno spoiler, cosa fa? prende una tele, una videocamera, e si filma, mentre si suicida, così vede che sta succedendo, cioè, ha tutte reazioni che, sono sensate, non fanno cose che dici, vabbè, ma basterebbe che facesse appunto un video, e scoprire cosa succede, lui le fa tutte, ed è geniale, geniale, evolve in maniera assurda, cioè, è una roba, io l'ho amato alla follia, e prima o poi me lo rileggo, non so quando succederà, ma prima o poi me lo rileggo, quindi, se volete farvi un regalo, capito che siamo un po' tardi, siamo al 17, stiamo per finire gli scontri da Coconino, ma se lo trovate, leggetevi il primo, anzi, io vi consiglio di prendere tutto il pacco, e vi lasciate perdere, perché se leggete il primo, non ci credo, ma non ci credo neanche se me lo dite in faccia, che leggete il primo, e non vi viene voglia di leggere gli altri, ma non ci credo neanche se me lo venite a dire in the face, guardate, non ci credo, cazzatona tipo Deadpool Samurai, Deadpool Samurai, deve essere un'altra bella cazzatona, mi scrivono su Instagram, Fumetti in Valigia, dice, sì, quello è il bello in assoluto, che è fuori di testa, ma tutto ha un senso, è quello il bello, cioè, che è fuori di testa, ma fanno cose, anche intelligenti, cioè nel senso, hanno delle reazioni umane intelligenti, non è la classica cosa da slasher, horror, dividiamoci tutti quanti, così diamo una scusa all'assassino, per ammazzarci uno per uno in maniera truculenta, no, il protagonista e gli altri personaggi del fumetto, fanno cose che hanno senso, cioè nel senso, anche io, al suo posto farei quella cosa lì, effettivamente, ed evolvi in maniera assurda, dai, continuiamo con le cose che ho recuperato, sempre recogliendole da terra, traccio un male al collo, sono pure andati in paese stamattina, ho recuperato, numero 10 di Hunter Ninja, altra cosa, della quale non sto capendo niente, ma va bene così, io, I am a hero, non l'ho letto, e c'è troppa roba da leggere, anche quando l'ho ristampata, l'ho tentato di recuperarmelo, ma l'ho detto, lasciamo perdere, manga fuori di testa, nel numero 8, c'è stato una specie di twist, cambio di situazione, mettiamola così, non voglio fare spoiler, un manga in cui dentro c'è di tutto, gatti che parlano, c'è gatti che, persone incarnate in gatti, mini moto che parlano, ora un po' di birra sta salendo, mini moto che parlano, ma soprattutto ninja che combattono in maniera assurda, i personaggi sono tanti, quindi ci si perde tantissimo, fondamentalmente storia di scontro tra, sfoglia adesso perché l'ho comprato qualche ora fa, sconto di due fazioni di ninja, questo è un po' il senso dei tempi d'oggi, che lavorano nell'ombra fondamentalmente, però molto bello, molto bello perché è talmente assurdo, che ormai lo leggo con, cioè super easy, cioè me lo leggo, cioè guardate se sarà io, se non l'ho letto, non so di cosa succede in questa tavola, ma io ve lo metto così, perché queste persone hanno una ciotolina sul pisellino, non capisco, ma lo scoprirò leggendo, nell'altro volume c'è tutto un combattimento, in cui un ninja tiene il pene di fuori, ma c'è un motivo perché lo fa, è talmente fuori testa che mi piace tantissimo, cioè è geniale, è una roba assurda, cioè è una roba, però è talmente assurda che non cerco di capire tutto al 100%, anche perché i personaggi sono tanti, me lo leggo, un po' cerco di ricordarmi cosa è successo nel numero precedente, e vado avanti e mi godo la follia, in più, fatemi vedere un po', in più, per fortuna, c'è un riassunto di quei personaggi, ti spiegano un po', cosa che dovrebbe essere imposta per legge, riassunto e personaggi, per legge ci dovrebbe essere questa cosa, perché non tutti quelli che leggono fumetti sono proprio giovincelli, io ho quasi 40 anni, bevo, ho fatto altre cose nella vita, ho poca memoria, non mi ricordo niente, quindi apprezzo molto quando ci sono i riassunti, poi, 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 facciamo sto unboxino, io ho aspettato un po', che, qualche opinione, perché mi sembrava un fumetto interessante, vediamo se questo col coltello riesco a non rovinarlo, ovviamente un pochino miro del culo, non vi nego, perché vengono 7,90€ l'uno, e il pack costa 25,90€, ora, io non sono un genio di matematica, ma 7,90€ per 3 non fa 25,90€, quindi rimpiango, momento anzianità, i tempi in cui il pack te lo regalavano, o ancora prima ti facevano lo sconto, cioè, fino a un po' di tempo fa, giovani, vi racconto questa cosa, se compravi un pack, quindi ti compravi tutti e tutta la serie in blocco, la pagavi di meno, se costava, non so, i volumi singoli ti costava 20€, magari la pagavi 17, pensate che follia, ma invece sto coso di cartone lo paghi pure, sto ovviamente prendendo tempo, perché sto cercando di aprirlo senza distruggere il pack, che ho anche pagato a questo punto, porca miseria, quindi un po' mi rode, però ho deciso di comprare uno, perché, vabbè, sono tre burumi, quindi comunque, salvo che il primo mi faccia proprio schifo, però molti ne parlano bene, è un thriller fantascientifico, quindi è abbastanza il mio, e volevo prendere gli altri, poi gli altri escono nei prossimi mesi, finisce che poi mi dimentico, ho fatto, vabbè, prendo il pack, così lo metto qua su, dico per quelli di Instagram, sopra la libreria, dove metterò altre librerie, me la leggo tutta assieme, me la godo, dai, vabbè, tanto non saranno quei due euro, quant'è in più, che mi rovinano, unboxiamo, un momento, ASMR, che dà più fastidio che altro, unboxiamo questo, almeno il pack è fatto carino, dai, per quanto carino possa essere un pack, comunque, la storia non la so molto bene, non vi nego, un mostro o un essere umano, chi dorme nel cuore delle tenebre, ho letto la trama prima di acquistarla, non è che proprio la scoperta, la scoperta chiusa, per quanto i disegni già mi avevano fatto abbastanza innamorare, poi mi sono guardato qualche video che parlava di questa storia, e mi ha incuriosito, la trama è molto lunga, non ve la leggo tutta, perché potrebbe essere noioso, ma, nelle profondità della galassia, l'ha alleviata, un immenso vascello spaziale, galleggia alla deriva, nei, ah, dei tombaroli, chiedo scusa, che si introducono al suo interno, rinvengono il diario di uno studente, certo che se usassi gli occhiali, forse sarebbe meglio, come la vedete, Kazuma Ikinose, nel quale viene descritto, cosa è successo nelle viscere della nave, dopo averlo letto, la realtà dei fatti diventa sempre più chiara, un sopravvissuto alla catastrofe, è nascosto da qualche parte, in quel dedalo di rovine, io leggo malissimo, ho questo problema, che a parte che sono anche un pochino dislessico, ma scusatemi, leggo malissimo, abbiate pazienza, però mi ispirava, un thriller horror inquietante, ne ho sentito parlare bene, belli retini, qualche volto, un pochino, sto sfogliando solamente le prime pagine del primo volume, perché non voglio in alcun modo farmi e farvi spoiler, ci mancherebbe, però sembra molto figo, ne ho parlato tanto bene, appunto, li ho presi tutti e tre, perché ho detto, vabbè, me la collo, poi i disegni dai, sono fighi, ricordano un po', aiutatemi voi che siete più bravi di me, facciamo questo gioco, vi propongo un gioco, i disegni ricordano un po', un fumetto, forse ancora in corso, che esce da anni, sulla guerra, dai, facciamo questo gioco, un fumetto sulla guerra, con delle armature, che sembrano un po' questa roba qua, adesso questa sarà tutta spaziale, ma che ricordano un po' questa, e che ha, hai nel nome, forse, vai, qualcuno di voi, che siete più sul pezzo di me, saprà sicuramente di quale fumetto sto parlando, fumetto di cui avevo preso il numero uno, non sono mai, joke, buonasera, non sono mai dato avanti, comunque, mi hanno ricordato un pochino quel fumetto lì, se vi viene in mente, lo scrivete, lo condividiamo con le persone, comunque, sembra bello horror, sembra bello angosciante, sembra bello particolare, soprattutto pieno di mistero, non sfoglio i numeri 2 e 3, anche se l'ho appena fatto, perché voglio tenermi la surprise, surprise, però possiamo fare un breve tutorial, su come si mettono i fumetti, nei box, perché me lo insegnò Danilo, di fumetti senza paura, che non mi ricordo, ve l'aveva fatto vedere in una live, non mi ricordo, grazie, grazie, Bighe, Red Ice, esattamente quello, parlavo proprio di Red Ice, vedi che Bighe è sul pezzo, bravo Bighe, si mette il numero uno, si mette il numero tre, e in mezzo, come per magia, con tanto amore, scivola il numero due, è così che si mettono i fumetti nei box, scusate Danilo che ne sa, va bene, lo leggerò, e ne parleremo, ultimo fumetto che ho recuperato, e poi ci salutiamo, se sono fatte le sette e un quarto, io vi ringrazio infinitamente, se avete voglia di lasciare un like, su YouTube, e un cuoricino, su Instagram, mi fa piacerissimo, vi ringrazio tantissimo, qualora non fossero iscritti, iscrivetevi al canale, fatemi fare un po' queste cose qua, qualora non mi seguiste su Instagram, e non mi seguite su YouTube, ci vediamo su YouTube, vedo i cuoricini, grazie mille, qualora mi seguiste su YouTube, adesso faccio una confusione, mi seguiste su YouTube, e non su Instagram, ci vediamo su Instagram, anche perché di solito i contenuti sono, salvo questa live, e magari rifaremo questo esperimento altre volte, i contenuti sono differenti, quindi su Instagram trovate alcuni relli, in cui parlo di alcuni fumetti, su YouTube trovate comunque il canale principale, quindi trovate i videoacquisti, le recensioni, la rubrica Top & Flop, tutta una serie di cose, ma su Instagram ogni singolo giorno, tendenzialmente vi tedio, e vi ricordo che il giorno della settimana è, è un servizio che offro così, gratuito alla comunità. Ultimo volume che ho recuperato, volume che mi ispirava tantissimo, volume, secondo me, vista la tematica, molto intenso, anche questo l'ho un po' osservato, ho atteso che qualcuno ne parlasse, ho visto che Danilo lo stava leggendo, me l'ha messo nelle sue stories, ne ha parlato bene, gli ho anche scritto, me l'ha consigliato, e quindi ho detto, va bene, lo recupero, l'ho recuperato, parla di salute mentale, è un'autobiografia di, sbaglierò sicuramente il nome, Zoe, Torogod, Torogod, della BAO, che parla di salute mentale, una autobiografia che ci narra, ve lo leggo, a parte che tutto bianco è un po' sporco, mi dà un po' fastidio, ma va bene, non importa, me lo accollo, questo libro non dovrebbe esistere, Zoe Tor, Torogod, racconta sei mesi della sua vita ormai andata in pezzi, e il suo tentativo di rimetterla insieme, nell'unica maniera che conosce, detta così non mi ispira tanto, ma in realtà dovrebbe parlare di salute mentale, di un periodo in cui l'autrice ha pensato anche di interrompere la sua vita, quindi molto intensa come storia, mi ispira veramente tanto, tutta sola al centro della terra, candidato ai premi Eisner e Ringo, e lo sguardo intimo e metanarrativo sulla vita di un'artista egocentrica, la cui sopravvivenza dipende dall'atto stesso della creazione, una rappresentazione toccante e originale della lotta per la propria salute mentale, tra ansia, depressione e sindrome dell'impostore, e per trovare il proprio spazio nel mondo del fumetto. Quindi sembra veramente molto 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 figo, intanto mi scrivono su YouTube, tutta sola al centro della terra, è bellissimo mi dicono, omuncus1510, perché potevo leggere anche il 1510, era più facile, molto peso ovviamente, ma anche molto appassionato e super creativo, e per questo che io sinceramente lo immagino, ciao Henry, su Instagram, lo immagino molto peso, cioè parla di salute mentale, non voglio fare una critica alla Bao, la Bao sa fare il suo lavoro, va benissimo, però leggendo così, pare più un tindrama leggerino, e invece da quello che so, e da quanto mi confermate, è molto peso, magari vi mostro anche qualcosa, è molto peso come storia, parla di depressione, parla di salute mentale, un tema che mi tocca particolarmente, e in più non so, sfogliando mi dà un po' le vibes, prendete con le pinze questa mia affermazione, di I Kill Giants, c'è una roba che può sembrare anche ironica, ma in realtà parla di cose molto 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 pesanti, in quel caso era la malattia, di un genitore, in questo caso invece la salute mentale, mi ispira un sacco, non vi nego che spero che sia molto peso, cioè spero che sia comunque una cosa profonda, e non si è in nessun modo imbonita la pillola, mostro sia su Instagram che su YouTube, non si è in nessun modo imbonita la pillola sull'argomento della salute mentale, ma che sia molto crudo, schietto e sincero, questo mi aspetto e questo spero di leggere su questo volume, un po' in bianco e nero, un po' a colori, un cartonato, 22 euro, ottimo rapporto qualità prezzo, sono molto curioso, sono molto curioso, attenderò forse il momento giusto per leggerlo, bella questa splash, bella, non vado più troppo avanti a sfogliare, che vabbè non penso di far spoiler, comunque, sembra interessante, sembra interessante, sembra un volume sicuramente molto particolare, e appunto, poi ci sono anche queste scelte grafiche, molto interessanti, molto, riutilizzare il termine particolare, ma l'ho già detto, poi ci sono anche delle conversazioni, immagino su WhatsApp, non so appunto, l'ho appena preso, ne parliamo, questo deve essere un bel volume, bello, bello intenso, almeno lo spero, direi che roba da leggere, ne ho, abbondantemente, per un bel po' di tempo, vi chiedo, vabbè, non so quanto vi interessa, però, se questo esperimento della doppia live, vabbè, mi sembrava semplicemente un modo per, rendere felici un po' tutti, quindi, chi mi può seguire, magari sul, dal cellulare, perché è in macchina, così, può farlo tranquillamente su Instagram, magari è un pochino più comodo, chi mi può seguire da YouTube, magari è invece più comodo farlo così, ho cercato di fare questa doppia cosa, magari la rifaremmo qualche altra volta, adesso valuterò un po' come, cosa fare, sicuramente vorrei fare più live, ma lo dico ogni volta, quindi ormai non sono più credibile, ma mi impegno a fare più live, vorrei fare almeno una al mese, e soprattutto questa cacchio di rubrica, che ho in mente da tipo un anno, da fare la sera, non in orario aperitivo, quindi in orario in cui magari è anche più consono, è più facile per le persone seguire una live, e con degli ospiti, e spero di farla partire il prima possibile, per il resto però, ci facciamo queste live, che sono un po' intime, ma ci sta, ti viene la voce rallentata, strana qui, se è il primo che me lo dice, però va bene, ok, mi riguarderò la live su Instagram, per vedere se la voce è un po' strana, ci può stare, intanto forse la mia connessione, che troppa roba collegata tutta assieme, sta impazzendo, mi rimetto l'altro auricolare, perché? Non lo so, nel dubbio me lo sono messo, io vi ringrazio tantissimo, per questa bella chiacchierata, non so quando uscirà il prossimo video, abbiate pazienza, questa settimana non escono video, c'è questa live, da fastidio me la ritolgo, c'è questa live, non usciranno video questa settimana, non so la prossima settimana, perché ultimamente sono un po' in casinatino, quindi non so se riesco a fare un video la prossima settimana, anche se ho già scritto, ciao Michele De Sì, grazie a te per avermi tenuto compagnia, mentre disegnavo, sarei curioso di sapere Michele, cosa stavi disegnando, se stai lavorando a un lavoro nuovo, se vuoi dirci qualcosa, io lo dico con piacere, quello che si può dire, quello che vuoi dire assolutamente, io ti vedo da Instagram, tutto ok, ma è Enrico il problema, Enrico Viarengo il problema, questo è il problema, Enrico Viarengo, la sfida di camereria dice, vado, ciao ciao, ciao a te, grazie per essere stato in questa chiacchierata, tutti insieme appassionatamente, cosa stavo dicendo, non me lo ricordo più, porca miseria, vabbè, comunque, dicevo, grazie mille appunto, cercherò di fare più live, ah ecco, non, le prossime settimane, non so se riesce a uscire un video, anche se ho già scritto la recensione, ma non ho ancora girato il video, di questo volume bellissimo, che vi riconsiglio, pensi di stare meglio, ci farò, ci farò assolutamente un video, perché per ora è uno dei fumetti, caduto un segnalibro, fumetti più belli, che ho letto in, in questo 2024, sicuramente tra i fumetti più belli, per ora che l'è uscito nel 2024, che io ho letto, è veramente molto particolare, ne parleremo nella, nella recensione che uscirà prossimamente, poi video acquisti, live, qua fumetti strani, robe nescono, gente che va, gente che viene, lo radiamo al suolo, al suolo questo canale, così, citazioni di Aldo Giornale di Giacomo, perché sono vecchio, vi ringrazio ancora, buona serata Vanessa, buona serata a tutti quanti, Michele Sidi dice, l'idea c'è, ok, attenderò curioso dell'idea, della tua prossima nuova opera, saluto tutti quelli di Instagram, e chiudo la live su Instagram, e saluto anche tutti quelli che mi hanno seguito su YouTube, fatemi sapere, se state vedendo questa live in differita, nei commenti, se c'è qualcosa che ho citato, che avete già letto, che conoscevate, che non conoscevate, qualcosa che vi incuriosisce particolarmente, magari c'è qualcosa che, ho citato, che vi incuriosisce particolarmente, se me lo scrivete, io ne tengo conto, e magari ne parlo in maniera più specifica, perché magari qualcuno interessa di più, quindi, gli, riservo un momento, più specifico, perché qualcuno interessa, quindi, fatemi sapere, sono a vostra disposizione, buonasera a te, e buona cena, buonasera a te, Ralf scaccola tutto, e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutte, ciao 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 ciao,